Musica 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 Piers, dimmi che hai tutto ciò che ti serve perchè mi sono rotto il cazzo Clara...eh... Scordatela, hai ben altri problemi Oh no Oh Cristo no Sto tornato e ora di farla finita Musica 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 Ciao a tutti ragazzi, allora The last mission L'ulta missione Siamo arrivati Siamo arrivati alla fine del gioco Tra l'altro Io come avevo già detto nei video precedenti Ho un po' ciacciato per evitare di fare errori o perdere qualcosa su internet E ho visto che ci sono vari finali Quindi diciamo che io in questo video Farò il primo finale che Diciamo Mi viene in mente nel senso Io devo essere sincero Ho visto che ci sono vari finali ma non mi sono Diciamo specializzato di preciso In tutti ho visto qual è che mi viene a fare Quello che farò sarà uno E probabilmente se ne avrò l'opportunità Sempre se Sbaglio Diciamo che riesco a salvare in tempo Una roba similea Farò un episodio successivo Diciamo questo è l'ultimo in quanto riguarda le missioni Però non è l'ultimo Non è l'ultimo degli episodi E ne farò uno dopo Nel quale Metterò Appunto Tutti i finali possibili E ripeto Sempre se Diciamo non sbaglio qualcosa E magari rischio di non poter tornare indietro Ovvero di non poter fare questa missione Ecco Vabbè quindi niente Iniziamo questa missione Sì E niente Speriamo Di sbagliare nulla Via Non sapevo che Rose fosse morta Doveva prendere a darsene Non ho prove che la Bloom l'abbia fatta uccidere Cazzo Aiden Non puoi nemmeno assolverli Cioè ci sono troppe cose che lo inquadrano Affari sporchi Voti manipolati Bastano dei bravi PR Per nascondere tutto quanto Dopo la morte di Rose Hanno creato quello Non so bene come né perché Ma quel codice è pericoloso E' qualcosa che Non ci ho capito molto Ma riguardava un certo bel qualcosa Bellwether Ecco cosa voleva Deve distruggere il codice amico Il resto Non mi importa che cosa ci fai Senti Aiden mi... Mi spiace per Clara E' tutto una merda Comunque la guardi E' tutto una merda Comunque la guardi E molti dirigenti E molti dirigenti d'alto livello della Bloom Vengono interrogati Si Per dei filmati di natura sessuale Per più di un anno Rushmore non ha voluto commentare Secondo il municipio Il filmato sarebbe un falso Creato dai Dedsec per screditare il sindaco Dopo tutto quello che abbiamo passato Puoi mollare così Cosa hai fatto? Sei pazzo? Io non lo so più Ma so che mi chiedi E lo sicuro E che pagherai Aiden Clara Credi di essere un eroe? Leggi i giornali La città ha paura di te Presuntuosa testa di cazzo che non sei altro Forza, veniamo Vieni a prendermi Facciamola finita Ah, dimenticavo di dirti una cosa Ti piacerà Ho sbloccato il CtOS Del tutto Sono dentro al sistema Vedrai che spettacolo T-Bone Stavo aspettando il mio treno E tutto a un tratto le luci vanno via Ti assicuro che è solo l'inizio Damien ha accesso a tutto Sì, col cazzo Non glielo permetto A quel rotto in culo Di incasinare il mio CtOS C'è un punto debole che lo conosce Raggiungilo e spegnilo E roviniamo la festa una volta per tutte Ti richiamo da dentro Mi piace rendermi utile PORCATRA Ma che casino Questa scoppia Questa scoppia Questa scoppia Via, 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 via Guarda lì che casino può fare Lui Boia Ma almeno i dissuasori Non te l'ho fatto l'assusto Se no ci si andava di testa Il CtOS È un miracolo creato dall'uomo Un sistema modello Che crea una città modello Per i cittadini modello Che cosa ha detto la Bloom Sui potenziali attacchi informatici Se l'ha fatto un bel dibattito Hackers? Ma no! Il CtOS è il più avanzato Bla 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 I press Biden La mattina ti frega sempre Ma questo lo sai molto bene, vero? Eccoci 200 dati bomb Via Merda Il Firewall mi butta fuori Forse T-Bone ha un'idea Quindi? Ci ha chiusi fuori Dobbiamo disconnetterlo subito Tu hai sbagliato qualcosa invece Però una volta non è colpa mia L'ultima volta della gente È morta Se non lo facciamo Moriranno lo stesso Dimmi tutto L'intera rete è collegata a un satellite È una specie di Palvola di sicurezza del CtOS Ho un virus artigianale che È un vero inferno Devi installarlo da tre punti diversi Che cosa fa? Taglia fuori Damiel Poco ma sicuro Lui finisce male Meno ne sai e meglio è amico Chiamami quando l'hai installato Sistemeremo tutto Credevi di fermarmi così facilmente? Mi deludi Ti facevo più intelligente Ma alla fine anche tu sei come tutti gli altri Mi pulisci con il silenzio Vuoi farmi crollare? Chissà che cosa potrei fare Ti ho scoperto la sega Aiuto Andiamo Aiden Stupiscimi Ora che farai? Dammi scacco matto Forza Puoi fare di meglio Dai mi è il disturbo alla navigazione Tentati a rallentarmi Concentrati sul luogo alla volta Boia Che bottone Un attimo Abbiamo un problema con la scansione CtOS No che palla Meno meno la parizione Mi deve rompire il cazzo Assolutamente Io ci smalto poi Ci prendo il carattere Centrale a tutte le unità Stanzione CtOS Riscita Sospetto individuato e marcato Ci serve l'accesso prioritario Attenzione Una volante potenziata È stata inviata per cercare il sospetto Ferma il veicolo Ripeto Ferma il veicolo Lo fermerò io Carica Alla fine non avevi bisogno della tua amica hacker Sospetto avvistato Ma è difficilissimo Guarda che controllo totale Mi vado addosso Posso scappare? Devo stare qui Per carriere questo virus Buono Buono Uno è andato Olè Eh Dov'è quel light Buona Io mi auguro sulla nostra Che se a puttacaso Tipo Dovessi morire Io mi auguro Un fermamento Dopodiché Che Poi Un debba Rinuncia tutto da capo Perché sennò L'è veramente la fine Tutti sapranno cosa si prova Quando ti viene rubato il futuro Ti ho conservato il meglio Per te Unità potenziata Inviata per occuparsi del sospetto Servo Ripeto Ferma il veicolo Che non si vede un cazzo ragazzi E' difficilissimissima questa missione Cazzo Servono rinforzio Non ce la faremo Attenzione Una volante potenziata E' stata inviata verso il sospetto Prova ad andare addosso Accosta subito Cazzo ma spacchi tutto E non mi riesci a spaccare la panchina del cazzo Macchina di merda Anzi macchina Giovo Perché anche se c'avevo Un camion non la spaccavo Serve l'accesso prioritario al sito S Ora Il sospetto ora è a pietra Centrale è diretto verso di voi Vai che l'ho messo Sparati cretino Cretino stai giù Si moltiplicano senza controllo Vai 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 che ce l'ho fatto Dai Perché il sonda è andato Dai Riccamento virus Buono E anche il sonda è andato Divertente Ho prenotato un viaggio per distruggere Londra in Inghilterra Puoi venire con me? Guarda che ho capito Carichi il tuo virus Quello va in giro e lo trova Così vieni a unire lo storpio È così vero? Sapevo che l'aveva inventato la tua amichezza Hacker Ma purtroppo è morta No Ci incontreremo Biden Fai del tuo meglio e io farò lo stesso Poi nell'aldilà potrei vantarti Mamma mia che casino giù Tanti di missioni Ti hanno colpito Cazzo ti levi dalle palle Macchina di merda Chi ti ha mandato addosso? Vai boia Devono rinporti ora Scendi per favore Riva Ma che cazzo di macchina prende? Cretino Ma io non lo so Ma vai chi se ne fega del ponte Piazzi Tenta di allentarmi Incentrati su un bocca Una volta Ma quanti tombini ci sono? Ma quanti bottinelli scoppiano? Madonna santa Boia di Crenarte ti a vedere E' uno di sasori Da un rom per cazzo No Riacco Hai rotto il cazzo Muoi Sicuramente fa crescere l'odine A fronte dei poliziotti Lasciate il veicolo E' a piedi Ci uniamo all'inseguimento No Hai visto che rete intelligente? Anticipa il problema Tu E lo risolve Ma una macchina vuol cosa per i farami c'è? Catroia che palle Raffitto per hackerari Buono 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 vedrai non c'entrano qui Forse è coso l'aeroplano C'è l'aeroplano C'è l'aeroplano Che l'aeroplano? L'aeroplano Che distorsi Vai vai E' andata E' andata E' andata Forse si E' andata Buono Una difesa geniale è il miglior attacco Che nome di merda dell'artiglio a serie gialli Basta ma quanto mi chiamo? Ero te il calazio Buona E che risparmio d'energia Finito Quindi devo seminare la poliziotti? Si può scendere e buttarci no eh? Si può scappare Niente Quello strozzo Eh va si dà le palle Vai che c'ho da scappare E' un muoio però Vai 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 Ci spostiamo per una posizione migliore Una volante potenziata è all'inseguimento del sospetto Certo La strumentazione non funziona Abbandoniamo Vedo un cazzo Com'è visuale Se non lo vedo niente Oddio Eh vediamo la storia di lì Si si Dai che scappi Dai che ce l'ho fatta Dai 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 Sì cazzo sono scappato Cazzo si Si ce l'ho fatta Non ne potevo più Va bene idea Sato i virus sono dentro Bene allora ci siamo Torna al punto debole dove abbiamo iniziato Ora si spalancherà come va bello Lascia perdere Avrai un collegamento diretto con il satellite Ed è questo che conta Ok il collegamento col satellite C'è una valvola di sicurezza Ancora una cosa Una volta dentro Usa l'exploit E via la luce Se siamo fortunati E sono in gamba come dice il mio curriculum Scoprirai dove è Damien Non voglio altro Ma che c***o Sperandosi sia il tempo Un po' per lo meno Ne ha interrotto il coglione Siamo il DeadSec Ti abbiamo osservato Sappiamo cosa fai Oddio Estruggi le linee verso il CTOS Godetevi lo show Dacci 30 secondi Per cosa? 30 secondi dentro il CTOS Lo effettiamo con un codice Poi quando il sistema si riavvia Il DeadSec controllerà il sistema dall'interno Ripareremo ai torti della pluma Ci bastano solo 30 secondi 30 secondi 30 secondi in segreto Il nostro segreto Saremmo cani da guardia No, sono stanco dal rumore Non lo dimenticheremo E quindi? Non lo dimenticheremo Ilären di come Non lo dimenticheremo Non lo dimenticheremo La terra macchetta È l'indicazione Un'indicazione Votre Un'indicazione Perchotale cosa devo fare? devo fare come sempre ma di guarda lì che robbie lo streganzo sono connesso a un satellite da qui il virus di T-Bomb riavvierà tutto il sistema fermelo Damien lo troverò vogliamo... addio no la luce va di meglio o va di la luce? poia? perché sei così testardo? Queen è morto hai di nuovo tua sorella e Clara ti ha pugnalato alle spalle è stata coinvolta nella morte di Lena lo sai e tu allora? anche tu vuoi essere considerato responsabile e questa da dove salta fuori? ma andiamo oltre magari invece è colpa tua ricordo che il Merlot è stata una tua idea mi maledico ogni giorno per il piano per averti incontrato per non averti fermato quando potevo non faccio più gli stessi errori se c'è un problema intervengo marcia il giustiziere ho letto i titoli ora sei tu il mio unico problema e vengo a prenderti ecco il faro sei ancora alla corrente ed ecco Damien ricordi quando io e te abbiamo deciso di unire i nostri talenti? tutti i nostri progetti eravamo motivati ma non come ora guarda fuori abbiamo messo in ginocchio un'intera città ma dove dove andrà? ah forse via la stessa adesso è nel corso nel faro di quei scioccoli eccoci che sorpresa ultime parole Damien vuoi dire qualcosa? ora sanno chi sono tutto qui, nient'altro ehi, vaffanculo ma guardati, hai fatto un'ecatombe solo per beccare un boss della mala ti autosolvi solo perché la tua causa era, come, nobile mi hai ingannato è per questo che sono qui ma che dici? hai sulla coscienza anche Clara come pure tua nipote per questo hai allontanato la tua famiglia, vero? loro sanno chi sei anche se sai giocare a volte capita di perdere bla 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 Cristo quanto parlate ah io c'ho un franchino e tu che ci fai qui? scusa bello nuovo contratto tirala qui cosa? forza, dalle un caccio ah quanto mi fate ridere sapete, prendete tutto così sul personale è il vostro problema per questo vi è andata male ecco la morale della favola, amici ah 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 il telefono dammelo forza, dammelo non so cosa desiderasse Damien nei suoi ultimi momenti la morte immagino credevo di vendicare la morte di una bambina e invece ho fatto questo bugie rivelate recorrotti una città distrutta e io un uomo diverso non mi guardo più indietro non ho rimpianti guardo avanti ogni cosa è obbligata sfrutterò tutto questo per rivelare proteggere e se necessario per pulire ripetiamo il sindaco Rushmore è morto la polizia non rilascia dichiarazioni i documenti trafugati mostrano un'estesa rete di corruzione e legami tra il sindaco e Lucky Queen si è suicidato temendo lo scandalo o è stato giustiziato la direttrice PR della Bloom Charlotte Garner ha rilasciato una dichiarazione sui problemi del CTOS abbiamo sempre saputo che la rete CTOS sarebbe stata un bersaglio per hacker più o meno abili si è trattato di un ottimo terreno di prova per dimostrare la resistenza del nostro sistema siamo molto soddisfatti dei risultati il nostro firewall ha bloccato gli attacchi peggiori e in alcuni casi gli interruttori di sicurezza hanno bloccato i sistemi e prevenuto ogni violazione le vostre informazioni personali sono al sicuro la rete CTOS è tornata pienamente operativa comunque ragazzi questo qui dovrebbe essere il finale quello migliore ecco ora ve l'ho detto se mi riesce farò un episodio successivo nel quale faccio vedere gli altri tre finale perchè in tutto sono quattro altrimenti mi dispiace e l'ho sempre consiglia e se volete vedere cioè li potete guardare sugli altri video comunque ciò nonostante io vi voglio ringraziare per avervi visto i video per quello che ho visto i video e spero che vi siate almeno un minimo divertiti e che nonostante possa essere nonostante possa essere nonostante sono scarsissimo mi auguro che non lo so che questi video vi abbiano fatto anche un po' da qui vi abbiano poi almeno un minimo aiutato ecco beh detto questo come è successo ci lasciamo con diciamo i crediti o i riconoscimenti chiamatele come vi pare e niente ci rivediamo ai prossimi video che vi ho detto o saranno diciamo tutti i video dei finali possibili restanti o se no ci vediamo nei prossimi successivi ora come ora non so quali saranno vi saluto ah una cosa sola che mi sono scordato e volevo dire una conclusione sul gioco allora secondo me allora come storia può essere abbastanza carina diciamo abbastanza forse almeno un minimo originale è un gioco che secondo me secondo me è un po' benissimo aspettare che scenda un po' di prezzo dato che tuttora costa l'abusi eeeh per quanto riguarda la grafica secondo me è buona decisamente buona ma non è ottima perchè ci sono vari sia bug e anche cose diciamo un po' un po' per ulteriore a vedere come capita una volta che è una stronzata però è una cosa da tenere d'occhio tipo dell'ambiente dei sassi che sono troppo squadrati cose un po' strane insomma quindi diciamo graficamente buona ma non ottima bene detto questo io spero ovviamente che facciano il 2 perchè a sentire ci dovrà dici che alla fine di questi crediti c'è qualcosa di di strano che riguarda Maurizio Maurice e dice che forse potrebbe essere il continuo del 2 beh detto questo io vi lascio l'ho già detto prima con questi crediti riconoscimenti e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti Chicago si sta ancora riprendendo dalle rivelazioni sull'omicidio di Ross Washington e la conseguente morte del sindaco Rushmore quindi l'interesse nella politica alle elezioni è basso ma la città deve andare avanti e si vocifera che una candidata a sindaco ad interim sia la responsabile alle comunicazioni della Bloom Charlotte Garner Gli agenti stanno raccogliendo i pezzi dopo che un enorme malfunzionamento del CTOS ha causato estesi blackout rotture di ponti e danni per migliaia di dollari il CTOS è tornato online ma molti fanno domande sulle misure di sicurezza per gestire un sistema così complesso in una città così grande alla prossima